possiamo cominciare dai allora andiamo già alla prima diapositiva perché oggetto della lezione di oggi sono due collage di carlo carrà immagino che tutti conosciate il primo quello sulla vostra sinistra anche se forse lo conoscete con un titolo sbagliato nei manuali di storia dell'arte molto spesso anche nei libri sul futurismo viene pubblicato con il titolo manifestazione interventista è un titolo sbagliato perché il collage è stato realizzato ben prima che no ben prima insomma diciamo un mese e mezzo prima che scoppiasse tra la fine di luglio e l'inizio di agosto del 1914 la prima guerra mondiale non c'era nessun motivo per manifestare in favore di un interventismo del dell'italia è meno noto il secondo quello che vedete sulla destra impiegherò un po più di tempo a ragionare sul secondo perché è un collage per molti decenni dimenticato utilizzato per un libro quindi con una destinazione editoriale che secondo me spiega piuttosto bene che cosa succede nei mesi in cui la guerra è scoppiata ma l'italia non è ancora entrata nella guerra entrerà insieme all'intesa alla fine di maggio del 1915 il collage il secondo si situa diciamo tra il inizio dell'anno tra il gennaio e il marzo del 1915 non sembrano opere dipinte dallo stesso pittore a distanza di sette mesi l'una dall'altra non sembrano realizzate dalla stessa mano se mancassero le firme che ci sono in tutti e due i quadri in tutti e due i collage se mancassero le testimonianze fotografiche le testimonianze storiche un ipotetico storico dell'arte fra molti secoli farebbe molta fatica ad assegnare alla stessa mano questi due questi due lavori e il contenuto della riflessione di oggi sarà quello di cercare di spiegare queste differenze di cercare di vedere cosa succede in un artista che a giugno del 1914 fa un collage come quello sulla sinistra tra gennaio e marzo del 1915 fa quell'altro collage in mezzo c'è una cosa importante c'è lo scoppio della guerra ci sono i riposizionamenti dell'avanguardia internazionale nei mesi che si giocano proprio subito dopo lo scoppio della guerra è un lavoro un po come dire fatto di particolari fatto di focalizzazioni su settimane però volevo che questo lavoro fosse questa chiacchierata fosse preceduta da una introduzione un'introduzione che ci prenderà mezz'ora forse anche di più sul problema di che cos'è il collage avanguardista che è uno dei grandi temi insomma dell'avanguardia internazionale mi pareva utile insomma fare questa questa riflessione anche perché il dato che va proprio riconosciuto insomma è che il collage futurista che ha una data d'inizio sostanzialmente la tarda primavera del 1914 è un portato è uno spin off del collage cubista cioè una reazione un portato e una reazione allo stesso tempo un tentativo di misurarsi per una serie di motivi che cercheremo di vedere con il collage cubista che da un paio di anni diciamo dall'estate del 1912 veniva praticato dai più importanti artisti cubisti allora tutti sappiamo che cos'è un collage qui ve ne faccio vedere uno per certi versi di straordinaria sintesi di straordinaria eleganza di Pablo Picasso siamo verso la fine del 1912 il collage è un collaggio un collaggio su una superficie che dovrebbe ospitare solo materiali della tecnica pittorica e in una continuità logica con il supporto su cui la pittura viene viene messa invece voglio dire siamo abbiamo in un piano che dovrebbe ammettere soltanto materiali pittorici dei materiali decisamente non pittorici in questo caso abbiamo il fondo che è un fondo di carta da parati abbiamo un foglio di musica abbiamo una intestazione ritagliata del journal abbiamo dei ritagli fatti di foboa di legno finto insomma quello con cui venivano tappezzate le pareti e abbiamo delle superfici che sono superfici colorate nel caso dell'azzurro di quell'azzurro così spaisante insomma di Picasso e colorate da Picasso su un altro supporto ritagliato e incollato abbiamo anche un disegno un disegno per certi versi molto accademico di Picasso che cerca di rappresentare un bicchiere sono tutte nature morte su una chitarra su un tavolino la bottiglia la bottiglia di cioè il bicchiere e il bicchiere posto sul tavolino il foglio di musica sul sul fondo i materiali possono essere molto diversi tra di loro questo è un collage di Braque dell'anno successivo c'è una carta da gioco c'è una un foboa c'è addirittura del legno vero non del legno finto c'è un pacchetto di tabacco che è stato aperto ed è stato incollato sulla sulla superficie quindi voglio dire materiali non pittorici materiali da 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 studio d'artista o della vita o della vita comune il ventaglio può essere amplissimo e questo è un collage di qualche decennio dopo siamo nel 1940 un collage realizzato da Josef Albers un docente del Bauhaus che era emigrato in America insegnava allora al Black Mountain College che è realizzato con questo elegantissimo motivo grafico delle felci americane felci americane che vengono fisicamente incollate sul foglio quindi da un lato c'è questo cioè materiali non pittorici incollati su un piano che dovrebbe accogliere materiali pittorici c'è un'altra possibilità di collage l'altro grande ramo che è quello di materiali che siano pittorici o grafici quindi non materiali extra pittorici ma realizzati indipendentemente su altri supporti ho trovati altrove e riportati sul supporto principale Max Ernst usa illustrazioni dell'ottocento le combina insieme attraverso un meccanismo molto sofisticato una tecnica molto sofisticata di ritaglio perché era questo spaesamento che è tutto di significato tutto di concetto rispetto a quella che era lì i valori e i contenuti che l'incisione ottocentesca la semplice incisione ottocentesca poteva consentire ma tutta la tradizione del collage dadaista qui vi faccio vedere un Kurt Schwitters abbastanza in là come data siamo nel 1930 in cui convivono ritaglie di giornale fotografie antiche fotografie contemporanee pubblicità commerciali e vere e proprie parti di oggetti appiattiti carte, oggetti che vengono appiattiti e incollati sulla superficie del foglio siamo di fronte ad immagini che esistevano che avevano una loro esistenza insomma una loro possibilità di essere considerate che avevano un valore particolare nel momento in cui sono state prodotte che avevano un significato per il destinatario alle quali erano destinate che invece vengono riutilizzate tempo dopo e vengono combinate per un significato diverso non c'è solo questo piano qua, c'è anche il piano di artisti che hanno lavorato realizzando loro stessi delle pitture, pitture su carta le carte vengono strappate e vengono ricombinate insieme questo è un caso che immagino per voi inaspettato è quello di Emilio Vedova, un pittore che ha sempre tenuto molto forte l'unità del piano pittorico che a un certo punto, qui siamo nella seconda metà degli anni 50 comincia a pensare evidentemente ad una moltiplicazione del piano pittorico attraverso questi plurimi cioè quelle opere fatte di numerose pitture che si combinano all'interno di un ambiente ed è chiaro che la frattura di continuità logica e di continuità visiva che gli dà il collage gli serve come modo di accedere a questa nuova grammatica visiva che non implica l'unità del piano pittorico quindi se è molto facile definire che cos'è un collage rispetto il tema grosso è quello della discontinuità rispetto alla continuità della superficie pittorica nella discussione tradizionale, ormai storica, sul collage due elementi vanno discussi il primo è quello del limite cronologico della collocazione cronologica del collage e su questo tutti si trovano d'accordo si parla di collage solo a partire di collage come episodio dell'avanguardia pittorica dunque come episodio che riformula proprio la struttura dell'immagine e la logica, la sintassi dell'immagine quando due artisti uno spagnolo e un francese che vivono tutte e due a Parigi per esigenza interne al loro percorso che magari a un certo punto vedremo cominciano a applicare sul supporto degli elementi che non sono elementi pittorici vedete due dei primissimi collage uno di Georges Braque quello Braque con la scritta Bach considerato veramente uno dei primi della storia del collage è questo più complicato più in dialogo più diretto con la grammatica del quadro cubista che è quello di Picasso quindi il collage comincia qui non si parla di collage anche se di fatto è tecnicamente un collage di fronte alla pratica usualissima tra i dilettanti e soprattutto le signorine dell'Ottocento di incollare su un unico supporto vari disegni, acquarelli magari una stampa fotografica o metterli in un album o incorniciarli è una pratica che tocca un piano personale diaristico che non è una pratica come dire comune negli atelier degli artisti non è una pratica diffusa negli atelier degli artisti quello che vedete è un album conservato dal Victorian Albert Museum di Londra di Kate Gogue che vi dà l'idea che molte delle risorse di questi collage o fotocollage fatti dalle signorine se vedete quello sulla destra furono degli inneschi di invenzione per il collage surrealista noti o non noti che fossero ai surrealisti non si parla di collage per questa pratica non si parla neanche di collage per la pratica tipica della pittura medievale di incollare o montare oggetti reali sulla superficie pittorica questo è un caso interessante perché a Parigi quando Gino Severini stava dicendo al Guillaume Apollinaire che per far diventare più reale un quadro futurista aveva bisogno di incollarci delle cose sopra e lo farà con il questa ballerina blu del 1912 quei punti che oggi vediamo ossidati di un marrone scuro erano originariamente delle paillettes che erano quindi riflettenti in cui come dire l'esterno del quadro rientrava nel quadro c'era questo questo gioco di riverbi il Guillaume Apollinaire gli ha detto eh sì in effetti la soluzione della realtà che entra nel quadro è una soluzione che voi specialmente voi in Italia dovreste considerare io a Brera so che c'è un quadro ed è il quale il triticoni camerino di Carlo Crivelli in cui le chiavi di San Pietro sono effettivamente delle chiavi di San Pietro che sono state assemblate sul quadro perché non funziona qui il la logica del collage perché diciamo c'è una una legge una regola che stabilisce il confine del collage stesso è quello della discontinuità del piano pittorico che è un grosso tema è un grosso tema fin dall'Ottocento insomma quando veniva rimproverato a Gustave Courbet di dipingere dei quadri non armonizzati dove c'era semplicemente una successione di cose che non erano in relazione né spaziale né chiaroscurale tra di loro si diceva che le signorine che stanno facendo le lemosine alla pastorella erano come ritagliate messe sul quadro senza un rapporto logico quelle vacchette che vedete sulla destra erano come se fossero stati era un commento infamante come se fossero stati un giudizio infamante come se fossero stati ritagliati e non fusi con il resto del quadro Courbet arriverà poi a dei livelli di esperimento in questa sua passione per l'image de pinale per l'arte popolare molto avanzati anche molto dirompenti insomma se non sapessimo che è un quadro del 1868 lo metteremo tranquillamente verso gli anni 20 o gli anni 30 insomma un quadro post-avanguardista ed invece un quadro molto particolare molto pensato da Courbet a quella altezza della sua stagione creativa è vero che negli anni ancora negli anni 20 i dizionari non hanno capito che collage è quella pratica lì degli artisti qui c'è una ho preso due definizioni una degli anni 60 di collage collage vuol dire sostanzialmente incollare della carta nel caso della carta d'apparati oppure intridere la carta di colla perché non assorba l'acqua oppure una serie di procedure legate a processi di vinificazione ce n'è una molto divertente negli anni 20 la prima è la definizione la rus 1866 la seconda è il 22 in cui uno si aspetterebbe di trovare la definizione di collage come è stata fatta in quella delle avanguardie ne trova una abbastanza divertente che è l'ultima probabilmente ci hanno anche molto giocato gli artisti nessuno dei quali era sposato almeno i francesi che quindi giocavano questa situazione di coppia di fatto il collage è la situazione d'un homme e d'une femme che vive coniugalmente sans être marié quindi una specie di incollatura di due che stanno insieme ma senza essere sposati purtroppo il collage delle avanguardie non è ancora filtrato nel mondo dei linguisti e non è stato accolto nel dizionario la rus un altro limite è invece nel collage molto discusso ed è il limite di ciò che può entrare nella superficie pittorico della tela noi non siamo portati a definire collage un sacco di burri e chissà se siamo portati a definire come collage un combined painting di Robert Rauschenberg Rauschenberg diceva che giocava in quella specie di faglia tra l'arte e la vita in cui era probabilmente una cosa che stava più vicina all'assemblaggio e al montaggio una mostra importante del 1960 a New York ha provato a leggere la continuità a leggere in modo piuttosto complicato la continuità tra l'invenzione del collage come avanguardia e il montaggio e il montaggio di altri oggetti con l'opera del genere si situano in uno statuto intermedio che solo una storicizzazione della fruizione critica di questi oggetti può mettere nella giusta prospettiva perché è la cosa interessante che dimenticati poi per gli anni 30 sostanzialmente per gli anni 40 i collage ritornano di moda e diventano un tema critico molto importante nel secondo dopoguerra negli anni 50 si fanno delle mostre storiche molto importanti si fanno dei numeri di riviste che cercano di stabilire davvero la frattura che il collage ha dato nella lingua della visualità della della pittura moderna in particolare un saggio degli anni 50 di Clement Greenberg fa iniziare il modernismo cioè il linguaggio dell'arte moderna attraverso la scoperta del collage il cuore della discussione è se il collage è una tecnica di cioè un dispositivo di grafico quindi di invenzione grafica o se è un dispositivo di trasferimento della materialità delle cose dentro al quadro capite sono due percorsi molto diversi due sensi che il collage può avere che sono che sono molti diversi la materia implica un implica cioè porta con sé un'implicazione esistenziale una specie di quasi di continuità tra il collage e l'informale il collage inteso come regia linguistica del piano del quadro porta verso l'arte astratta mi piaceva leggervi un brano piuttosto interessante di un pittore dell'espressionismo astratto americano uno dei più colti dei più intelligenti si chiama Robert Motherwell e ve lo leggo perché vi fa vedere come un artista che non aveva fatto collage perché cronologicamente non poteva averlo fatto nel decennio dell'avanguardia e si pone riscoprendo il collage sostanzialmente dadaista di fronte a questa tematica del collage dice il collage è un sostituto moderno della natura morta perché è un modo di lavorare con materiali che sono materiali autobiografici e dà soprattutto perché quindi c'è l'autobiografia ci sono parti di noi negli oggetti che mettiamo nel collage ed ha soprattutto un'imparreggiabile sensazione di operare fisicamente sul mondo uno ritaglia e cambia di posizione ritaglio e lo incolla e talvolta strappa tutto e comincia di nuovo in tutti i casi sagomare e comporre una struttura così densa di relazioni elimina il bisogno e spesso la consapevolezza di una rappresentazione senza tener conto della somiglianza lo scopo dell'artista è di trovare un complesso di qualità che gli dia la giusta sensazione mutando la direzione verso lo sconosciuto e il caos dunque è un modo come dire irrazionale di giungere alla conoscenza di se stessi soltanto la presenza di elementi inimici all'interno delle parti del quadro porta a questa conoscenza superiore un compagno di strada di Greenberg la pensa in modo completamente diverso ed è il grande teorico del collage del novecento Clement Greenberg nel 1958 scriverà uno dei testi più di maggiorottura insomma del novecento the past paper revolution la rivoluzione della carta incollata la rivoluzione cosa significa per gli artisti nel dodici aver incollato la carta e fa una dimostrazione molto complessa non ve la racconto qui ve l'esemplifico soltanto dici il collage è un risultato logico della pittura cubista il problema della natura morta specialmente della natura morta post-sesaniana era quella di far convivere piani pittorici e volumi e lo fa vedere attraverso queste nature morte di Braque intorno al 1908 1909 la prima soluzione era stata quella di appiattire talmente tanto il visibile per cui il piano di affioramento degli oggetti finto e il piano del quadro si appiattivano in modo tale che le diagonali diventavano sempre più piccole sempre più schiacciate e il gioco era proprio quello di cercare di dare una illusione di tridimensionalità che diventava sempre più scivolosa sempre più difficile da governare a un certo punto è intervenuto un elemento importantissimo che è stato quello delle scritte che quindi galleggiavano in un luogo che non doveva esistere cioè il piano fisico del quadro non il piano dell'illusione ma il piano fisico del quadro il passaggio logico successivo è stato quello di dare il piano fisico del quadro attraverso l'incollatura di elementi che non erano elementi pittorici invece di leggervi un brano del famoso Pasted Paper Revolution oppure del successivo collage vi faccio vedere che queste idee erano già maturate ad una mostra del 48 fatta dal MoMA dedicata al collage e questo è il risultato cioè il significato il senso che secondo Greenberg ha il collage le finte profondità del quadro furono eliminate e il suo ruolo fu perfezionato il ruolo del quadro fu perfezionato e identificato con la stessa superficie fisica della tela della tavola o della carta di supporto incollando un ritaglio di giornale sulla tela l'artista richiamò l'attenzione alla realtà fisica dell'opera d'arte quindi non alla realtà fittizia non al vetro che ti fa vedere una cosa che sta al di là del vetro ma alla fisicità della superficie della tela e fece di quella stessa realtà la stessa realtà dell'arte il grande carattere a stampa del giornale arrestò l'occhio dello spettatore e gli impedì di passare attraverso la superficie fisica della pittura per entrare nello spazio creato dall'illusione la pittura non era più una questione di finta proiezione spaziale o di descrizione e il quadro divenne indissolubilmente una sola cosa con il pigmento la texture e la superficie piatta che lo costituirono come oggetto quando noi oggi andiamo alla Biennale di Venezia vediamo delle cose che qualche volta sono appese alle pareti non pensiamo più che sono delle visioni pensiamo che sono degli oggetti dei quadri secondo Grimberg tutto è iniziato qui ed è iniziato non perché c'era della materia sulla tela ma perché c'era l'indicazione del piano fisico su cui l'artista stava lavorando l'interpretazione è bellissima probabilmente non giusta insomma la storiografia l'ha poi in qualche modo corretta ma insomma è una delle grandi barre di posizionamento della critica del novecento cosa non teneva conto di cosa non teneva conto Grimberg non teneva conto di una cosa cioè che già a partire dal prima dei collage dalla primavera del 1912 Picasso aveva usato dei colori che erano colori industriali quindi totalmente piatti quindi totalmente respingenti che quindi il valore di questa piattezza di questa fisicità non era data soltanto dal ritaglio ma era data dalle parti di quel colore ripolano che non si fondela che dava un piano autonomo non teneva conto del gioco del trompele dell'inganna l'occhio che stava dietro al motivo di molte invenzioni in questo caso la chescanne la sedia fatta di canniccio di paglia intrecciata fisicamente riportata sulla tela giocava un meccanismo di risveglio di allusioni concettuali che andavano bene al di là del ritrovamento della fisicità della superficie della tela e persino la corda usata come cornice serviva ad ambientare nel porto dove quindi in una taverna di porto l'ambientazione di questa natura morte di questa scena non teneva conto perché andava contro la sua lettura che molto del collage parte dagli esperimenti scultori e qui questa foto non era ancora nota è una foto famosa dell'atelier di Pablo Picasso nell'inverno del 1912-13 vedete una serie di opere intorno di fogli intorno che si popoleranno via via di collage e già c'è un disegno che è un disegno come dire chiaro ed appiattito non è stata la necessità dell'incollaggio a trovare la composizione del quadro ma soprattutto vedete una di quelle chitarre che poi sono state smontate cioè sono andate in rovine insomma quelle che noi oggi vediamo nei musei sono ricostruzioni che dava la misura compositiva chiaroscurale quasi fosse una specie di perno su cui ruotavano intorno tutti gli altri lavori non è che Picasso lavorava così ha fatto ha disposto queste tele questi fogli per vedere come stavano in rapporto con la logica con la logica scultoria ed era un elemento quello della presenza della logica scultoria che certamente Greenberg di cui certamente Greenberg non teneva conto ma che quando avviciniamo la chitarra bicchiere di vino da cui siamo partiti prima ad una scultura più o meno contemporanea vediamo che c'è un inevitabile come dire trapasso di pensiero di pensiero compositivo ma anche di pensiero più profondo insomma di grammatica profonda della visione buttiamovi altri cinque minuti per capire cosa dicevano i contemporanei i collage che avete visto adesso non avevano circolazione pubblica avevano una circolazione privata all'interno degli studi degli artisti e di pochi raffinati collezionisti che andavano a comprare le opere dall'unico mercante di Brach e di Picasso che era Daniel-Henri Canvailer che aveva deciso che nel sistema parigino aveva lui le esclusive dunque non mandava le opere nelle esposizioni ufficiali nelle esposizioni collettive nell'ottuno del 1912 c'è il primo collage di fatto che viene esposto pubblicamente è un collage di Juan Gris che si chiama Il Lavabo e c'è uno specchio che vedete incollato sul fondo della tela che mima lo specchio che sta davanti al lavabo come lo giustifica un lettore Maurice Reynal dell'arte cubista che sta accompagnando l'arte cubista lo dice in un modo questo va alla mostra della seczione d'O dice le superfici piane non possono essere dipinte è inutile che proviamo a dipingerle si dice che nella realtà sono piane una etichetta di bottiglia è stupido copiare un'etichetta di bottiglia e nella realtà esistono le superfici piane a maggior ragione una superficie piana che specchia come quella di uno specchio è un modo per non far diventare la pittura pura mimesi inutile più intelligente la lettura che fa l'anno successivo siamo nel 1913 Guillaume Apollinaire che ha presente dettagli come cioè collage come questi di Pablo Picasso Apollinaire dice che la carta ritagliata o l'oggetto reale che entrano nel quadro rappresentavano quella che lui dice la cornice interiore del dipinto perché ne mette in luce i limiti più profondi dell'azione del dipingere la chiarezza che viene data dagli oggetti autentici serve ad allontanare ogni equivoco di mimesi al pittore che usa le parti incollate già esistenti rimane aperto un unico privilegiato orizzonte di ricerca che è quello del lavoro intellettuale e sarà il lavoro e l'impegno di Picasso sarà quello di come dire di riuscire a uniformare attraverso la pittura le parti dipinte o la composizione le parti dipinte le parti che sono messe quindi il collage serve a far diventare il lavoro pittorico un lavoro intellettuale più o meno sulla stessa lunghezza d'onda è Georges Braque questa è una dichiarazione molto famosa di un testo pensieri riflessioni sulla pittura che viene pubblicato su Nord-Sud la rivista di Reverdy da Georges Braque siamo nel 1917 lui è appena tornato con una grave ferita dalla guerra mondiale rilegge quella che è stata la stagione dell'avanguardia e dice che non sono affatto le parti incollate delle parti che servono a ingannare l'occhio non sono della realtà sono esattamente il contrario sono dei fatti semplici ma creati per lo spirito per mettere in gioco l'esprit si intende l'intelligenza profonda e non sono che una delle giustificazioni di una nuova figurazione nello spazio ci servono a far vedere che la partita che si sta giocando è quella di una nuova figurazione dello spazio servono non ad ingannare l'occhio ma a disingannarlo e tra l'altro l'idea che il collage disinganni l'occhio cioè faccia vedere che l'occhio non è più ingannato dal trompele della terza dimensione ma che invece è qualcosa che deve essere disingannato perché c'è la fisicità del quadro sarà poi un'idea che transiterà fino a a Greenberg cosa vedono i futuri i futuristi vanno a Parigi diciamo in spedizione tre volte la prima poi Boccioni per fatti suoi andrà due volte indipendentemente ma insomma ce n'è una prima di pura alfabetizzazione nel 1911 Marinetti paga un viaggio premio per andare a vedere ottobre per andare a vedere i quadri cubisti quando c'è il contratto per l'esposizione del febbraio del 1912 i futuristi arrivano a Parigi non hanno una minima idea di che cosa erano i quadri cubisti hanno detto in due manifesti che loro erano i più avanzati al mondo Severini che sta a Parigi dice piano un momento qui c'è della gente che altro che voi venite a vedere che cosa fanno questi avendo già dei quadri iniziati nel giro di due o tre mesi taroccano tutti i loro quadri e li fanno più o meno assomigliare ai quadri cubisti cercando di mantenere le loro e sono le regole del mercato è lì che Apollinersi sa rabbia dice ma qui che razza di trucchi venite ad insegnarci c'è un secondo viaggio importante siamo durante il 1912 cioè durante la mostra dei futuristi con una cruciale non dico confronto pari a pari ma la consapevolezza di sapere quali sono i posti dove andare a vedere i quadri quali sono gli studi dove ci sono le cose nuove nel momento in cui i futuristi si sentono un po' padroni del mondo c'è un terzo confronto ma non che occupa soltanto sostanzialmente Boccioni due volte nel 1913 poi c'è un decisivo ultimo confronto nel 1914 nella primavera del 1914 quando già marca male tra i due gruppi quello di Soffici Carrà e Papini da una parte quello di Marinetti Russo e Boccioni dall'altro vanno a Parigi e quasi non si come dire non si frequentano fanno proprio due patrie distinte i collage futuristi i collage che noi conosciamo come collage futuristi avvengono quando come dire questo tipo di a quest'altezza cronologica cioè nel nel 1914 in mezzo c'era stata anche un'altra cosa ne dovremmo tenere conto insomma che cosa succede quando ci avviciniamo ad un quadro e troviamo delle scritte le si devono leggere all'interno del meccanismo del quadro questo è uno dei casi più straordinari è uno dei collage che avevamo visto appesi intorno alla chitarra di Picasso se voi prendete il il giornale le giornale trovate un culo di teatro un colpo di teatro un colpo di scena nella guerra serbo-turca del 1912 evidentemente a un Picasso che insegue da spagnolo la conoscenza della lingua francese che è molto vicino a un certo tipo di jokes che la lingua francese può provocare impagina questo il quadro facendo riferimento ad uno dei poemi visivi più importanti che è quello di 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 Stefan Malarme un culo di dadi un colpo di teatro diventa un colpo di dadi quindi il gioco come dire delle sovrapposizioni semantiche che è una cosa che evidentemente raggela un po' da questo punto di vista i futuristi l'altra cosa che li raggela non poco è la misanabim del quadro cioè il fatto che attraverso il collage nella primavera del 1914 sostanzialmente i cubisti e questo lo vedete in un bicchiere bottiglia di cognac bass della primavera del 1914 irridono e fanno diventare a suo modo iperaccademico il quadro con un gioco di continui spaesamenti di continui riferimenti la cornice è una cornice ritagliata ma alcune parti sono completate a mano il passepartout è un passepartout che viene ritagliato da una da una tappezzeria quindi quello che dovrebbe stare intorno al quadro in questo gioco tutto concettuale di continue sostituzioni questi sono i risultati del primo contatto dei futuristi con i cubisti insomma del riverbero del collage cubista nel collage futurista sono collage dove vedete più disordinati dove il problema della convivenza e dunque della simultaneità delle percezioni viene evidentemente portato evidentemente coltivato in un modo ben più ben più vivo ben più forte rispetto ai cubisti c'è quest'idea che la stampigliatura sia che sia una stampigliatura fatta stencil nel caso di soffici sia che siano ritagli di giornale abbia ancora quel quel valore di arresta l'occhio cioè il punto in cui l'occhio si arresta e l'immagine il piano pittorico ritorna sull'occhio dello spettatore c'è una convivenza come dire più affollata e più disordinata di elementi il piccola velocità è la velocità con cui i futuristi mandavano i quadri nelle spedizioni postali per risparmiare soffici riesce a trovare un modo di far convivere quelle specie di mascherine il bicchiere la bottiglia che vengono moltiplicate all'interno del quadro e carrà addirittura un suo ritratto chissà di quando un ritratto di una di una donna che vuole smitizzare insomma quella raffinatezza concettuale delle inserzioni degli oggetti scomposti cubisticamente di Picasso come si erano comportati i futuristi nei confronti dei cubisti ve l'avevo un po' accennato ma insomma ci sono proprio dei confronti e dei capovolgimenti molto evidenti Boccioni fa il capolavoro del 1901 uno dei due capolavori del 1912 materia come dire ribaltando la logica interna di un quadro come la fama en bleu di Legere una donna in blu davanti al balcone esattamente come sarebbe stata la madre di Boccioni dove però Boccioni usa tutte le tecniche e le risorse della compenetrazione plastica dei piani delle linee forza di un'ideologia bergsoniana della materia e dunque delle relazioni che lega il soggetto percipiente al percepito e di questa fine dei confini tra figura e spazio è proprio come dire un prendere un testo e ribaltarlo all'interno dell'ideologia futurista non fa molto diverso Carlo Carras questi sono i due risultati del viaggio dell'inizio del 1912 si prende una lingua che è quella delle arete delle spine di pesce quindi dell'appiattimento bidimensionale grafico dei quadri difficilissimi da leggere come il portoghese di Georges Bra che lo si fa diventare un tablò de vie moderne la galleria di Milano con tutte le sue suggestioni di rumori di vita anche di contrasti sociali uno dei motivi che sta alla base di questo quadro era l'invasione degli spazi della galleria quindi degli spazi pubblici all'ora di pranzo e all'ora di cena dei due caffè i biffi e i savini che avevano ottenuto dal comune di Milano la possibilità di mettere i tavoli quindi una vecchia polemica di giustizia sociale in fondo ancora nel Carrà del 1912 oppure questo è un confronto molto sofisticato il quadro in questo caso è infinitamente più avanzato più bello nel caso di Boccioni e il dinamismo di un footballer che oggi c'è al MoMA di New York rispetto ai quadri di soggetto sportivo e di soggetto moderno di Robert Delonais che cercavano questa convivenza di piani piatti alla ricerca di una sintesi che era una sintesi decorativa ed astratta Boccioni oppone quelle che lui chiama le forme uniche cioè questo lirismo che accompagna il movimento e che si infiamma di colori e di gestualità che sono gestualità che traducono l'energia del corpo l'energia del nudo e dunque l'energia del movimento umano questo per farvi vedere con quale atteggiamento ci si misurava da parte dei futuristi nei confronti dei quadri dei quadri cubisti e il risultato del collage è un risultato abbastanza esterno ci si prendono delle soluzioni che sono soluzioni tecniche dei futuristi dei cubisti l'uso per esempio dei giornali l'interferenza che la linea del giornale le linee della scrittura del giornale danno rispetto ai piani plastici di ciò che si vuole rappresentare un ritratto d'uomo ma si usa la logica della scomposizione di piani plastici che è quella della logica che è la logica futurista a sua volta discesa dalla logica del primo cubismo ma insomma è un modo come dire di aggiornare una tecnica che non si limita ad essere una tecnica pittorica che si arriverà poi a queste soluzioni che sono soluzioni dichiaratamente primitiviste di Carrà in cui vedete il fondale fatto di giornali d'epoca sembra essere un partito decorativo senza nessuna forza senza nessuna interferenza rispetto a quella che è proprio quello che è proprio lo sviluppo la grammatica visiva del quadro stesso quando vanno a Parigi è appena uscita nel novembre del 1913 lo vedo nell'inizio del 1914 un numero fatidico di Suare de Paris in cui Picasso pubblica delle nature morte lui le chiama nature mort delle composizioni che erano state fotografate nel suo studio con un uso cioè pitture che non sono più pitture non sono neanche sculture sono degli oggetti tridimensionali fatti attraverso l'assemblaggio di oggetti e di parti che stavano all'interno dello studio dell'artista queste cinque fotografie saranno fondamentali per la metafisica italiana non si spiega Giorgio Morandi se non attraverso un confronto serrato silenzioso e continuo con queste fotografie il primo risultato però è stato quello di generare perché non ve lo si vede niente c'erano due non erano imperdibili ma insomma c'erano due pagine di La Cerba 1914 in cui c'era una discussione tra e no mi dice anche qui che non è possibile visualizzare l'immagine pazienza era evidentemente troppo non fa niente ve lo dico non erano immagini di quadri erano due pagine c'era un articolo di Giovanni Papini che si intitolava Il cerchio si chiude in cui Papini diceva che il punto di raggiungimento degli artisti più avanzati era stato quello di sostituire alla trasformazione lirica della materia le cose medesime fatte di materia e quindi si era tornati sostanzialmente all'inizio della pratica artistica Boccioni contestava questa impostazione e dice guarda che Picasso e Braque usano gli materiali come prima si usavano i pennelli e i colori cioè li usano come puri mezzi non è un problema di identità è un problema di uso dei mezzi certo se si incollano come fa Severini i baffi veri sul ritratto di Marinetti si fa un'operazione che assomiglia troppo a quella del Museo Gravena al Museo delle Cere ma insomma il problema è quello di usare le materie come se fossero come se fossero mezzi pochi mesi dopo questo dibattito che avviene nel marzo e Carrari va veramente ritorna veramente nell'aprile del 1914 a Milano Carrari torna da Parigi e nel giugno esegue questo collage è un collage di materiali diversi dove si alternano zone colorate e parole ritagliate da pagine a stampa in modo da creare una visione che di fatto si inestetica vi faccio vedere un dettaglio ravvicinato che vi fa vedere il ruolo di interferenza continua tra i piani pittorici e le scritte un'opera che è stata erroneamente ritenuta una sorta di manifesto interventista eseguito dopo lo scoppio della guerra il motivo è molto semplice l'opera è stata eseguita per essere pubblicata sulla Cerba quindi è un'opera non eseguita per essere venduta per essere esposta in mostra verrà poi esposta nel 17 alla fine del 17 quando Caravra ha la possibilità di fare una mostra personale in cui racconta il suo passaggio dal futurismo di fatto alla metafisica ma è stata fatta per essere per diventare una specie di manifesto qualcosa di non troppo diverso rispetto ai manifesti ed è un'opera che è stata eseguita diciamo tra il giugno dopo la metà del giugno del 1914 ed è stata pubblicata sulla Cerba nel primo agosto del 1914 insomma due giorni prima l'Austria aveva dichiarato guerra alla Serbia lo sapete lì c'è questa specie di caduta domino lo stesso giorno in cui esce questo giornale la Germania dichiara guerra alla Russia e dichiara guerra alla Francia quindi quello che poteva diventare un conflitto tra due nazioni diventa un conflitto universale è chiaro che l'atteggiamento aggressivamente interventista dei futuristi faceva sì che una festa patriottica poteva essere eletta come una manifestazione interventista non si riferisce a questo la festa patriottica è quella della festa dello statuto che alla fine di giugno una festa che veniva nel 1914 celebrata che celebrava il rilascio dello statuto albertino da parte di Carlo Alberto quindi quella che era il momento come dire decisivo della nascita della nazione italiana inevitabilmente si caricava di fatti politici di riverbi politici in termini di un aggressivo nazionalismo la morte di un manifestante durante ad Ancona durante le feste dello statuto in genere la famosa settimana rossa di Ancona tra la fine di giugno e l'inizio del luglio del 1914 quindi come dire un'opera che è tutta implicata di riverberi politici ma che viene letta poi subito dopo in un modo completamente diverso al punto che alcune scritte che oggi come dire vediamo questa scritta Thoth poteva essere letta come una scritta tedesca morto quindi un augurio di morte a Francesco Giuseppe alla monarchia austria che invece è la pubblicità di una pillola per la per la migliore digestione che allora andava molto di moda c'erano le scritte a Milano con questa scritta Thoth e a un certo punto troviamo la scritta di quello che è il primo mouthwash il primo colluttorio lo viene pubblicizzato come dentifricio di fatto era un colluttorio quello dell'Odol purtroppo non riusciamo a stabilire da quale numero del Corriere della Sera è stato ritagliato perché praticamente tutte le settimane c'era una pubblicità con la scritta Odol va anche detto che questa come dire unità tra patriottismo da un lato la festa dello statuto e prodotti di consumo per l'igiene e quindi di un diffuso benessere per la prima volta di un di un diffuso benessere articoli commerciali insomma che si potevano trovare all'interno della città in particolare di riferimento all'igiene personale la digestione il mantenimento di buoni denti potrebbe far riferimento a un'igiene più vasta la sola igiene del mondo che marinetti aveva considerato come come quella della della guerra l'equivoco è nato lì il giorno stesso in cui l'opera è stata illustrata sulla cerba è il giorno in cui deflagra la prima guerra mondiale è un tumulto cittadino di fatto siamo di fronte ad una ad una come dire a dei rumori e a delle immagini che nascono da un tumulto e da una manifestazione cittadina allora questa opera deve essere letta a due livelli da un lato il confronto con un genere letterario preciso della presenza delle parole su un piano che è quella delle parole in libertà dall'altro e lo leggeremo più analiticamente dal punto di vista della centralità della sperimentazione futurista e della sua diffusione in tutto il mondo che si misuri con le tavole parolibere è evidente dalla sua concezione ma anche da certi particolari insomma vedete in diagonale nel dettaglio che vi ho fatto il riferimento a quello che è stato il primo libro che ha usato la tavola parolibera come risorsa espressiva lo Zantum tum di Filippo Tommaso Marinetti voleva imitare il rumore e l'eco del rombo di cannone durante la guerra balcanica l'opera riuscita nel marzo del 1914 quindi da poco la cosa forse più interessante è che questo è un collage autobiografico nel senso che Carrà raduna tutta una serie di manifesti di tavole parolibere soprattutto di tavole parolibere che aveva scritto per per la cerba e le assembla all'interno di questo oggetto quindi una specie di sovrapposizione di riutilizzo di pezzi della propria vita e dei propri scritti qui vedete un manifesto del marzo del 1913 una tavola parolibera manifesto vedete un decalogo della sensibilità creatrice che non è molto differente rispetto a quello che sarà poi l'impostazione della festa patriottica vedete come per esempio nel caso di yeki Tokyo echi vuol dire gli echi di una centrale di trasmissione che si trasmettono in tutto il mondo viene da un fittizio rapporto di trasmissione di un telegramma con cui Carrà finisce il suo manifesto la sua tavola parolibera sulla Cerba è evidente il modo in cui usa proprio l'impaginazione grafica di la Cerba e non stupisce che festa patriottica non si confronti con i collage precedenti di Carrà ne avevamo visti uno in particolare che niente aveva a che vedere con questo modo di lavorare di impaginare ma si confronta invece con quelli che sono gli studi per le tavole parolibere questo è un commovente insomma si chiama rapporto di un ottambulo milanese siamo nel 1914 ed è Carrà che va in galleria di Milano il luogo insomma di identità laica e di identità mondana di Milano rispetto al luogo di identità religiosa il Duomo e anche rispetto alla scala il luogo dei valori artistici alti anche un po' bolliti rispetto alla loro la coscienza dei futuristi la modernità si gioca nello spazio della galleria vedete una composizione fortemente centripeta cerchi concentrici attraversati da un sistema radiante di linee è una passeggiata notturna una rapida rassegna delle persone incontrate chi si incontra in galleria la notte certo non madri di famiglia sono 15 prostitute e un inglese che anche lì ci fa abbastanza ridere carà non sapeva l'inglese quindi con tutti gli equivoci che nascono da parole straniere numeri frammenti di sensazioni frammenti di musica percepiti e coordinati da un artista che sta al centro il piano il dialogo avviene dunque più con la letteratura che non con la pittura a questo punto e quella che forse una probabilmente una dei motori di invenzione di festa patriotica si trova nella letteratura questa è la prima probabilmente di tutte le poesie visive di Ioma Polinieri il grande patron dell'avanguardia parigina si chiama Lettre Océane una lettera che attraversa l'oceano attraverso il trasmettitore del posto sulla 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 tour Eiffel ed era stata pubblicata il 15 giugno del 1914 su Le Soiree de Paris è annunciata addirittura la lettera Océane sulla Cerba 12 linee radianti la vedete cerchi concentrici che vogliono immaginare e riferirsi alle onde sonore che partono dalla dalla Tour Eiffel effettivamente se noi avviciniamo lo sguardo all'Etre Océane troviamo il rumore che fa la sirena che avverte dell'avvicinamento dei dirigibili al culmine della Tour Eiffel e quindi li fa allontanare la sirena fa vedete sirene hu 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 e sono letteralmente riprese da quell'hu hu hu messo in diagonale di Dakarra con scritto sirene in mezzo proprio prendere la poesia di Apollinaire e farla la poesia visiva e farla diventare qualcosa di diverso di futurista cioè prendere un'idea cubista e portarla dentro alla lingua futurista e in basso vediamo addirittura viva l'esercito vive le roi e viva il papa che diventano e viva il re e viva l'esercito nella trascrizione di Carlo Carrà l'altro problema è che molti dei futuristi alcuni dei futuristi si stavano muovendo sullo stesso terreno ed è abbastanza interessante sapere che un mese prima rispetto alla pubblicazione di Festa Patriottica Gino Severini pubblica scusate non è Carlo Carrà Festa Patriottica ho sbagliato la 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 una danza serpentina di Gino Severini che viene pubblicata una specie di partitura da leggere non siamo più di fronte ad un quadro siamo un come un foglio musicale una partitura che deve essere letta per chi conosce le regole la lingua della lettura di una di una di un'opera futurista fatta da un pittore Gino Severini scusate davvero la la didascalia mi era scappata fatta da un pittore Gino Severini che era stato il più restio ad accettare il passaggio al dalla dalla pittura alla alla scrittura alla alla letteratura al centro del collage sono poste delle parole le vedete proviamo ad avvicinare un po' avviatore battere il record una delle chiave la chiave avviatoria di questa composizione negli anni nei primi anni dieci i pionieri dell'aviazione era stata inventata da sei anni letteralmente l'aviazione i voli dei Wright insomma si ricordavano a poca distanza insomma erano protagonisti dell'immaginario pubblico e si organizzavano frequentemente degli incontri in cui i piloti gareggiavano tra di loro sull'altezza e sul percorso che gli aerei facevano con record che venivano continuamente superati battere il record c'è scritto sotto e sappiamo dalle cronache milanesi che a Milano durante la festa dello statuto furono fatti dei voli dimostrativi su Milano probabilmente questo tipo di impostazione aveva portato Carrà ad immaginare una vista diversa una vista come se fosse dall'alto la piattezza poteva somigliare a quella che era la pianta di Milano lo sapete una pianta centripeta con il duomo al centro e le cerchie dei navigli tutte intorno una pianta tra l'altro che è una pianta di posizionamento sociale molto preciso all'inizio del novecento dove le parti che univano erano sostanzialmente le linee tranviarie Carrà stesso avrebbe confessato chissà severo a Gianni Mattioli che è stato il primo proprietario dell'opera che il motivo inventivo di questo collage nasceva da un fatto che era successo durante le manifestazioni per la festa dello statuto cioè gli aerei avevano buttato dei volantini tricolori volantini nazionalistici propagandistici c'è la vista dall'alto e la vista dal basso c'è i volantini che si distribuivano secondo l'andamento che l'elica dava al movimento d'aria che l'elica dava davano questa sorta di doppia compresenza della vista dall'alto e la vista dal basso il tema dell'elica qui diventava un tema molto importante avrebbe portato via molto tempo era centrale nella definizione proprio di poetica del futurismo e uno dei quadri più irrisi e più contestati dei cubisti andato al Salon des Andépandons del 1914 era questo omaggio a Bleriot il primo trasvolatore della manica che aveva questa grande elica in primo piano che tendeva a muoversi e che i futuristi trovavano di una fissità e di un'accademia improponibile rispetto a quella che era il loro senso della velocità e della compenetrazione tra le cose c'è un altro piano di interpretazione che è quella che i futuristi siano gli avviatori stessi in qualche modo metaforicamente coloro che aprono i nuovi orizzonti noi siamo la prima costellazione per nuovi più acuti astronomi riprende uno dei passaggi del manifesto fondativo del futurismo ed è la sfida di una ricostruzione dell'universo fatta attraverso le leggi di simultaneità e di compenetrazione che sono quelle futuriste in questo modo siamo di fronte ad una espansione del futurismo di fatto in tutto in tutto il mondo il manifesto lo vediamo negli echi in basso lo vediamo in queste sirene che moltiplicano il suono è una sorta di dichiarazione di spavalda propaganda che proclama il futurismo italiano come una sorta di nuovo sole e i futuristi come astronomi di un nuovo universo artistico per capire questo abbiamo dovuto fare la cosa più più semplice di tutte cioè metterci a leggere le scritte non fingere che le scritte fossero utilizzate soltanto in un senso plasticamente costruttivo graficamente costruttivo ma cercare di trovare il loro significato e vedere con cosa relativamente a quelle settimane il quadro la composizione il collal si misurava e probabilmente questa doppia come dire compresenza da un lato di misurazione con le tavole parolibere futuriste dall'altro con la poesia visiva di Guillaume Apollinaire e ancora di più con l'idea di espansione dei suoni futuristi all'interno del mondo abbiamo provato a cercare di capire come mai un'opera del genere sia così diversa rispetto al lavoro che Carat stava facendo nello stesso periodo con la tecnica del collage la poetica insomma della simultaneità non basta più il confronto va sul piano della poesia visiva nella continua interferenza e potenziamento tra significante e significato che solo le parole riescono ad ottenere i cubisti l'avranno fatto in una via più profondamente pittorica anche più intellettuale per certi versi i futuristi la consideravano troppo freddo quel modo di interrogare lo statuto del mestiere pittorico e insomma ci stupisce il passaggio ad inseguimento ve ho detto siamo luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio siamo sette mesi dopo l'esecuzione della festa patriottica il contesto è un po' diverso Carat nel 15 sta progressivamente allentando i legami con il gruppo dei futuristi milanesi e con Boccioni in particolare c'è una tensione che comincia molto forte che comincia a venire fuori al di là dei risentimenti personali al di là dell'amicizia con Soffici che cerca di avvicinarlo ad un'idea di plasticità diversa c'è la scoperta della forza di uno stile plastico che possa fare i conti con l'arte popolare che era un grande tema che Soffici già a partire dal 1910 aveva tirato in campo quando aveva detto che un cartello di cocomeraio la vinceva sulla lo sposalizio della vergine di Raffaello Sanzio quest'opera futurista per il soggetto militare per alcune scelte stilistiche le scritte ritagliate dai giornali e per la sua riproduzione cioè la destinazione di un libro per le edizioni futuriste di poesia rappresenta un decisivo allontanamento rispetto a quella logica del collage precedente cercheremo di capire qui perché intanto come dire questo è un collage bellico lo spiegheremo via via e si allontana enormemente dalla immagine della guerra come era praticata dalla illustrazione della fotografia del tempo e anche dai lavori dei futuristi vedete rappresentato un cavaliere al galoppo un cavaliere insegue il nemico inseguimento è il titolo il tema bellico è garantito dalla pubblicazione in questo libro che Carrà fa nel marzo del fine marzo del 1915 che si intitola guerra pittura Carrà orgogliosamente dice ancora che è futurista nonostante le tensioni con Boccioni e con Marinetti guerra pittura come sottotitoli dinamismo politico futurismo politico dinamismo plastico disegni guerreschi parole in libertà questa è la destinazione dell'opera cioè una fotografia che tenga le due pagine come penultima tavola di questo libro di fatto fotografico nel senso che sono fotografati dei disegni e questa è l'unica composizione cromatica che c'è in tutta la in tutto in tutto il il lavoro ma come è stato fatto notare insomma da Richard Cork che ha cominciato a lavorarci in termini di confronto con le altre raffigurazioni della guerra questo cavaliere sembra più un fantino e per lo più ornato lo vedete di un cappello a cilindro di dimensioni che sono dimensioni incongrue i puntuali echi di guerra che sono leggibili nelle scritte che circondano cavallo e cavalieri il cavallo sembra soffiare questo nome lo vedete in basso che è Joffre Cesar Charles Joffre era il grande generale francese che aveva sconfitto i tedeschi nella battaglia della Marna nel settembre del 1914 quando i tedeschi sembravano arrivare a Parigi è un è un nome come dire di un eroe per la per la intesa ma anche la situazione balcanica che ricordate in un ritaglio che vedete l'Italia e i Balcani sotto la pancia del 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 cavallo convivono queste indicazioni belliche con indicazioni del tutto differenti se noi provassimo ad avvicinare lo sguardo al quadro troveremo degli annunci di compravendita delle situazioni di spettacoli parigini e siamo nel giugno del 1914 la pubblicità di un'automobile nella in una rivista inglese però c'è Italia c'è Francia e c'è Inghilterra quindi una specie come dire di compresenza delle tre nazioni della 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 intesa il quadro insomma sembra più un gioco il cavallo sembra più un cavallo ad ondolo l'ambiente in cui possiamo provare a metterlo è più quello della stanza dei giochi che non quello del campo di battagli intanto la data non è banale è sempre stato dato 1914 perché ci ha fregato quel ritaglio che troviamo in alto spettacolo e il spettacolo c'è scritto la data jeudi 11 juin 1914 11 giugno 1914 ed è significativo perché è l'ultimo giorno in cui Soffice è stato a Parigi ha preso evidentemente un giornale della sera se lo ha letto in treno durante il vagone letto si è visto con Carat a Milano per consegnargli alcuni lavori Carat si è preso quel giornale che gli ricordava la Parigi di un mese prima se l'è tenuto e quando ha dovuto fare un quadro che un quadro un collage che celebrava l'alleanza italo-francese ha usato quello che aveva cioè l'ultimo giornale che era riuscito ad avere in mano perché se andiamo a guardare meglio i quadri troviamo che gli avvenimenti è un giornale diretto da Umberto Notari che esce solo nel gennaio il 3 gennaio del 1915 con una fatica enorme sono riuscito a identificare il ritaglio del popolo d'Italia dove c'è l'Italia e i Balcani perché c'era scritto soltanto Roma 12 notte è il numero del 13 gennaio del 1915 e con una fatica ancora maggiore sono riuscito a trovare nei Corriere della Sera il ritaglio con gli annunci commerciali e siamo a Beningla siamo il 9 marzo del 1915 quindi insomma un lavoro che tra l'altro appunto si è sviluppato su molti mesi con una procedura di esecuzione che questa sedimentazione probabilmente dei ritagli qualcosa ci riesce a dare insomma va staccato in seguimento dai primi collage che fa a Parigi a Milano e si assomiglia di più si avvicina di più a quelli che sarebbero stati i lavori del 1915 quelli in cui Carra puntava all'isolamento spaziale primitivo delle figure sottolineato oltre che da questa semplificazione così brutale di questa testa d'uomo anche dalla linea che circondava il raffigurato qualcosa che li isolava e che era contro totalmente contro l'idea di compenetrazione plastica e di dinamismo plastico cosa succede dopo che è stato eseguito manifestazione sì ho sbagliato festa patriottica qualche volta scappa anche a me di chiamarlo manifestazione interventista tanto si era abituati a chiamarlo in quel in quel modo intanto c'è un contraccolpo psicologico le lettere asofici dicono che dopo lo scoppio della guerra gli artisti si bloccano passano tutto il giorno a leggere i giornali mi sento totalmente stordito e pompato dice Carrà non so più come reagire alle cose comincia verso la fine del 14 a dire che vuol puntare di più a delle sintesi plastiche che gli sembrano follie dopo la realizzazione di festa patriottica Matura in Carrà una crisi per certi versi decisiva il tentativo di di sfondare il il limite della pittura e inoltrarsi nel campo della letteratura pittura in tessuta di parole leggibili davvero come una partitura ha segnato un punto di non ritorno del suo sperimentalismo e ha messo in crisi per la prima volta i fondamenti pittorici il recupero diciamo più tradizionale che avviene nella seconda metà del 14 è un recupero di linguaggi che sono linguaggi invece più densamente e profondamente pittorici però si sta giocando un'altra vicenda nell'Italia della seconda metà del 1914 Marinetti dice bene tutte le energie del futurismo devono essere spese per l'interventismo cioè la battaglia futurista e la battaglia interventista interviene pesantemente nel giornale di Papini e Soffici la cerba che diventa di fatto un organo di propaganda della guerra sembra a un certo punto che ci sia una rivista gli avvenimenti quella che dovrebbe nascere nasce nel 15 che ospiti delle immagini di guerra delle illustrazioni di guerra notari che non è stupido capisce che non c'è niente di più eloquente della fotografia della fotografia delle battaglie della fotografia degli scenari di guerra prima ma illude gli artisti che si possano pubblicare perché pubblicare voleva dire prendere dei soldi cioè essere pagati per l'illustrazione e poi dice che sostanzialmente non se ne fa nulla si trova una via d'uscita una rivista pescarese che si intitola la grande illustrazione un lussuoso un lussuoso giornale tra l'altro collaborava anche Sibilla Aleramo e alcuni dei lavori che sono stati fatti guerreschi in quel momento finiscono sulla grande illustrazione lavori come questo la carica dei lanceri di Umberto Boccioni dove i lanceri escono dalle notizie del giorno punti d'appoggio tedeschi presi dai francesi oppure disegni che come dire vogliono anticipare quello che può essere una nuova iconografia da gran quadro della guerra ci si muove persino Gino Severini è chiaro che Carrà si misura in modi polemici in modi oppositivi rispetto a queste figurazioni che danno conto della simultaneità del dinamismo e dello sviluppo di un'azione il confronto tra la carica dei lanceri di Umberto Boccioni e l'inseguimento di Carrà è un confronto che è molto molto didascalico non esiste come dire una figura fissa nella carica dei lanceri di Boccioni esiste questa figura che diventa cavallo e cavaliere che diventa una specie di giocattolo di legno nel caso di Carrà ed è anche vero che Umberto Boccioni si sta misurando con un'iconografia della guerra questa è una delle battaglie di Tintoretto nella sala del maggior consiglio di Venezia che proprio negli stessi mesi vengono pubblicate qui sulla illustrazione italiana per dar conto di quella che è l'iconografia tradizionale della guerra è chiaro quindi che ci stiamo muovendo in un campo che è un campo diverso rispetto a quello che gli altri futuristi stanno provando a muovere il lavoro di Carrà è un lavoro quello che abbiamo visto precedentemente è un lavoro che si misura l'inseguimento con dei disegni non con delle pitture e si misura con dei disegni e di disegna collage ma soprattutto dei disegni ritrovare la centralità del momento disegnativo è una delle questioni chiave di questo momento vi dico questo perché se noi prendiamo guerra pittura il libro di cui avevamo detto è presente in seguimento come penultima tavola gli undici disegni guerreschi li chiama così che compongono in seguimento sostanzialmente rimettono in gioco l'intero arco delle possibilità stilistiche dell'ultimo biennio di Carrà si va dalla scomposizione plastica quella dell'aereo e delle parole che entrano in gioco con la scomposizione plastica fino alla vera e propria tavola parolibera viva Trieste italiana fino ad una nuova attenzione per l'arte popolare quella cosa che Soffici su cui Soffici aveva battuto come dire il chiodo ancora fino ad una certa data dà dei risultati come questi prigionieri di guerra che sono che ripetono in qualche modo si rifanno in qualche modo a certe vignette antitedesche che erano stati pubblicate negli almanacchi popolari di La Cerba in favore dell'entrata in guerra in Italia avevano un valore non soltanto di circolazione all'interno del mondo degli artisti ma anche di propaganda a più vasti strati della popolazione in questi disegni protagonisti sono spesso lo vedete i ritagli di giornale da dove vengono questi giornali e qui c'è il primo segnale che ci dà un pizzicotto nel sedere per capire questo i ritagli vengono quasi tutti da un giornale che era stato fondato il 15 novembre del 1914 si chiama Il Popolo d'Italia e il direttore era Benito Mussolini era il il giornale del passaggio dalla neutralità assoluta alla cosiddetta neutralità attiva ed operante che nel giro di qualche mese diventerà interventismo più 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 sfegatato dava voce a quelle frange rivoluzionarie da poco uscite dal partito socialista il Popolo d'Italia inizia come quotidiano socialista diventerà soltanto un anno dopo due anni dopo quotidiano dei produttori dei lavoratori eccetera dei produttori e dei combattenti dei produttori e dei combattenti e che puntava ad enfatizzare della guerra quel grandioso affascinante spettacolo sullo scacchiere mondiale tutta guerra pittura è punteggiata di riferimenti al popolo d'Italia noi facciamo fatica oggi a trovarli questi riferimenti perché dobbiamo andare nei microfilm o nelle meroteche delle biblioteche ma la grafica dei giornali era riconoscibilissima allora cioè era un riferimento come se oggi una grafica di Repubblica piuttosto che quella del Corriere piuttosto che quella del giornalo di Libero cioè sono molto riconoscibili come tipi grafici come font grafici e due in particolare delle tavole di guerra pittura diventano cruciali per capire cosa Carrà sta facendo in inseguimento la prima è questa che si intitola Ulano più paesaggio belga ed è una di fatto una carica una carica di un soldato in un ambiente probabilmente urbano ed è un attacco frontale nei confronti di una delle opere che era stata dichiarata in qualche modo indispensabili nella costruzione di una linea della pittura futurista Roberto Longhi aveva detto nel 1913 che era uno dei quadri più felici di tutta l'arte moderna elasticità invece di questo sviluppo di linee elicoidali di questo raccordo così volontario tra i piani del dinamismo del cavallo i piani del paesaggio Carrà oppone questa sorta di guerriero metallico costruito costruito attraverso delle diagonali potenti antinaturalistiche una specie di macchina da guerra lanciata contro il nemico il secondo dei disegni guerreschi è questo ha come titolo angolo penetrante di Joffre sopra la Marna Joffre era il generale francese quello della battaglia della Marna contro due cubi germanici ed è molto interessante cercare di capirlo ci è voluta molta fatica c'è stata una studiosa americana una studiosa inglese ci ho provato io a cercare di capire che cosa si vedeva lì dentro sostanzialmente si vedono due particolari di aerei il Fokker tedesco e il Moran francesi che si scontrano sul piano prospettico della battaglia della Marna e c'è questa sorta di musica di due coppie di grilli e di poeti che viene lanciata contro la staticità e la solidità dell'impero germanico è una una ideologia insomma di vittoria dei valori della prontezza della poesia della rapidità dell'inventiva della fantasia contro la cultura tedesca contro la solidità ma anche la 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 l'incapacità di di rinnovarsi e la la meccanismo farraginoso insomma dell'apparato militare e della della cultura tedesca è una cosa che è una visione che è prossima a quella della sintesi futurista della guerra qui siamo nel autunno del 1914 tutti i futuristi vengono arrestati durante una chiassosissima e un po' esagitata manifestazione che viene fatta a Milano nel cellulare di San Vittore loro sintetizzano quella che è la loro visione della guerra futurismo è contro il passatismo i popoli che sono i popoli dell'alleanza vengono sconfitti dalla fantasia dal genio dalla spregiudicatezza dalla rapidità dalla allegria dei popoli della dell'intesa agilità e dinamismo associati al mondo francese diventano qualcosa di diverso in nella come si dice nella 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 raffigurazione di 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 inseguimento qualche volta i dettagli ci dicono qualche cosa questo è un dettaglio centrale del dove si vede la lancia no del quello che vedete in basso è lo stivalone del del cavaliere quello che vedete di traverso è la lancia e guardate sopra la lancia che cosa c'è c'è un piccolissimo ritaglio veramente minuscolo e abbastanza fortunosamente sono riuscito a rintracciarlo da dove veniva viene da un foglio della serie del pianeta della fortuna una serie di fogliolini popolari per la il gioco dell'otto quindi che abbinavano i sogni e gli oggetti ai numeri da giocare all'otto dove veniva favori veniva proposta una terna da giocare in questo caso 6 30 e 59 nella terna è compreso il numero 59 che è lo stesso scelto da Carrà accompagnato dai disegni di quattro oggetti un cappello un cordone cardinalizio un calamaio e una zucca associati a quel numero nel gioco dell'otto non credo che agisca soltanto la voglia di trovare un reperto anacronistico rispetto alla guerra per metterlo lì sia in riferimento al gioco dell'otto la fortuna che aiuta gli audaci sia il profilo del giocatore che è allegato ai numeri siete una persona leggo dal volantino una persona di carattere impetuose di buon cuore avete tentato molte vie per poter prendere la fortuna per i capelli d'ora in avanti la fortuna prenderà a proteggervi e non vi lascerà rimandano a una disposizione di fiducia irrazionale verso una fortuna che con leggerezza e imprevedibilità determini il corso degli eventi questo è stato un collage diciamo fatto tra la metà di gennaio e la metà di febbraio del 1915 quando il conflitto sul fronte belga languiva in una estenuante guerra di trincea dopo che i tedeschi avevano imprevedibilmente vinto dal 7 al 14 gennaio il combattimento di Suasson la speranza di una risoluzione fulminante fortunata ad opera di Joffre ad opera del generale della Marda dovette accompagnare i sogni di Carrà la notte sognai questo questo evento che si riferiva ad alcuni mesi prima in seguimento diventa così una specie come dire di esorcismo contro l'avanzata dei tedeschi e di speranza di risoluzione un po' magica un po' fantasiose fantastica allo stesso tempo della guerra il soldato fantino che attraversa con disinvoltura il campo di battaglia scompaginando le parole dell'attualità bellica e insieme degli echi sportivi e commerciali significa per Carrà una nuova conquista quella agilità e dinamismo da lui associati sempre al mondo francese si accompagnano per la prima volta vedete a una sottile presa di distanza a una sottile iconizzazione ferma e un po' allucinata dell'evento che deve essere deve essere rappresentato e la vera chiave è quella dell'arte popolare è abbastanza interessante qui diventa lungo ma insomma ve lo dico in un minuto il collage ti offre un'opportunità pazzesca cioè di quella di vedere la sequenza attraverso cui i ritagli sono stati incollati se uno si sovrappone all'altro basta come dire andare guardare un po' di sguincio magari senza farsi vedere quando lo si studia provare a metterci il dito sopra e vedere dove lievemente si stacca è una sequenza molto interessante fa vedere che Carra parte da un disegno che è un disegno molto stabilito che costruisce prima il paesaggio attraverso come dire delle linee che sono linee che equilibrano le linee che erano state utilizzate nella composizione del cavallo e del cavaliere che compone cavallo e cavaliere mai sovrapponendo gli elementi della testa della gamba eccetera eccetera come se fosse una specie di assemblaggio di pezzi di legno che quasi non si toccano come se ci fosse un'anima di ferro dentro che permette di avere dei movimenti un po' da cavallo per bambini ma è molto interessante l'ultima fase c'è una fase in cui e lì aiutano le date dei giornali perché si vede in progressione una fase in cui cerca ancora un dialogo di tipo plastico di dinamismo e di relazione plastica e poi c'è una fase quella degli ultimi elementi che vengono inseriti ad esempio la copertina per la coscienza della nuova Italia di Francesco Penazzo una copertina fatta da Carras stesso una figura che è stato Francesco Penazzo è stato uno dei primi proprietari delle opere di Carras che servono in qualche modo a fermare lo sguardo dell'osservatore come dire a non dare più quella illusione di profondità plastica e di relazione tra i piani plastici lo si vede in quello lo si vede nel ritaglio di Italia e Rumania gli ultimi sono quelli o si vede ancora di più nel ritaglio l'ultimo cronologicamente che costituisce diciamo il vuoto del corpo del cavallino nel lato in cui sta galoppando e qui si capisce davvero questo modo nuovo di costruire attraverso una sintesi plastica che raggiunge la piattezza dei piani e che quindi dà un'eloquenza di tipo nuovo questa specie di strana sospensione di un motivo che peraltro per Carras era un motivo da lui molto già praticato non è un'invenzione quella del cavallo e cavaliere in questa situazione che il cavallo in primo piano è un cavaliere che diventasse l'elemento conduttore fosse un'iconografia che a Carras interessava viene addirittura da un'opera così socialisteggiante come i cavalieri dell'Apocalisse a sua volta veniva da uno dei grandi manifesti pacifisti della Milano di sinistra degli anni 90 il telerio degli orrori della guerra che Gaetano Previati aveva esposto alla seconda triennale di Milano Previati era molto vicino a Carras i giovani futuristi e quello che vedete sotto lo vedete purtroppo nella riproposizione grafica che Previati ha fatto per le illustrazioni dei promessi sposi è un telerio che fu in qualche modo maledetto nella Milano conservatrice degli anni 90 e che fu poi distrutto da Previati stesso questo elemento insomma del grande cavallo che cavalca diventa vedete la continuità rispetto al modello e che è un quadro pacifista e non un quadro bellicista diventa in Carrà una delle opere più importanti del 1912 una sfida per certi versi ancora aperta nei confronti di elasticità di Boccioni il cavallo ha lo stesso colore ma ha queste forme quasi di latta quasi di solidi vuoti di latta come se la scomposizione del cavallo data attraverso la velocità fosse una scomposizione di tipo puramente meccanico e la come dire la prodo sarà la prodo invece successivo negli anni della metafisica in cui lo spirito occidentale della Francia lanciato contro la Germania viene tradotto in forme che sono quelle del 400 italiano in particolare degli affreschi di Paolo Uccello al Chiostro Verde di Santa Maria Novella nel gioco dei riferimenti due ce li siamo dimenticati e sono probabilmente la triangolazione più importante qui finisco poco prima che Carrà abbandonasse Parigi in quei due mesi in cui aveva era stato nel febbraio nel marzo all'inizio aprile del 1914 il uno delle opere in qualche modo seminali fondative di del Doganier Rousseau riscoperto dall'avanguardia parigina negli anni intorno al 1910 8-10 era stato pubblicato in una tavola delle Suare de Paris era una pubblicazione era un quadro mandato al Salon des Indépendants del 1895 da Harry Rousseau un quadro volutamente pacifista Laguerre dove in queste formule così improbabili naif Rousseau aveva rappresentato l'aspetto orrifico ma anche perturbantemente ipnotico in qualche modo della guerra c'è un fascino in questa distruzione in questa bambina che cavalca sui corpi di coloro che sono che si sono che erano caduti durante la guerra ma ancora più prossimo al Collage di Carrà ed è lì forse che si trova la chiave perché i cosacchi di Gino Severini qualcosa ci hanno fatto venire in mente è quest'opera ve la faccio vedere in bianco e nero perché Carrano l'ha mai vista colori era stata pubblicata su in un numero di Der Sturm la rivista del modernismo berlinese diretta da Herbert Walden che aveva dei rapporti organici con i futuristi ed era questo quadro Lirices di Vassili Kandinsky è chiaro Carrani ha ripreso dei particolari come vedete lo sfondo a due cortine guardate in alto quello del giornale dell'altro giornale degli avvenimenti che inquadrano cavallo e cavaliere il profilo ondulato del terreno con questo motivo acuneo che introduce alla visione del fatto con il ritaglio di una rivista inglese di pubblicità di automobili ma soprattutto alcuni dettagli del cavaliere come la lancia vedete quella lancia che si disponte orizzontalmente che verrà richiamata in modo quasi letterale da Carrà nella lancia del suo cavaliere per accentuare l'effetto visivo della rapida galoppata e anche proprio questa la curvatura del gesto del cavalcare al galoppo non è tanto la ripresa iconografica la ripresa dei motivi dei motivi formali che ci interessa è quest'idea di un luogo lontano la Russia di un luogo mitico della possibilità dell'irismo della pittura che ci interessa la Russia era chiaramente alleata all'intesa e un cavaliere russo era uno degli elementi in qualche modo cruciali per capire questo tipo di rapporto ma è quest'idea di una iconizzazione non legata ai fatti della guerra agli eventi della guerra ma qualcosa di più lontano per certi versi di più leggendario che poteva innescare questo nuovo ottimismo tra gennaio e marzo del 1915 che invece gli eventi belli stavano in qualche modo contraddicendo ecco ho provato a vedere se partendo da dei particolari da dei dettagli si poteva provare a capirci qualcosa di più io sono credo fermamente nella importanza dei dettagli come quando ho letto Nabi Warburg che il diavolo si nasconde nei particolari sì sì credo che il diavolo si nasconda nei particolari in particolare un'operazione che è un'operazione filologica partita dalle schede quindi dal dover dire che cosa c'è nell'opera qualche volta se sappiamo cercare di ambientarla nella discussione del momento e nel paesaggio visivo del momento può darci qualche spiegazione in più oppure qualche ragione in più per capire delle delle parti dell'opera che sennò diventerebbero più opache meno meno comprensibili non è un'interpretazione l'avete capito a tutto campo io non ho la coscienza di aver letto di aver interpretato queste due opere ne ho dato qualche chiave di lettura anche un po' metodologicamente ho cercato di far capire come partendo da dei dettagli banalmente leggendo le cose che sono scritte qualcosa in più si può riuscire a capire grazie a voi niente qualcuno di voi pensa che i collage futuristi siano più belli di quali cubisti magari ho un'idea che mi pare che avevo però niente c'era una domanda che stava venendo fuori io sono io volevo chiederle professore siccome stiamo parlando di opere che hanno più di 100 anni su il collage attualmente lei pensa che si deve passare deve passare tanto tempo per capire queste opere o il collage è ancora attuale dunque che debba passare tanto tempo per capire queste opere e sa che è un po' inevitabile cioè delle volte uno dice ma perché non perché gli studi consapevolmente critici attentamente filologici sul novecento sono cominciati molto tardi molto tardi questo perché per una serie di motivi di storia della cultura che è inutile ricordare ci qual è qual è stato il grande problema degli studi sul futurismo è un problema molto semplice ma ma importantissimo il futurismo ha avuto una compresenza di opere e di scritti schiaccianti una compresenza di scritti rispetto alle opere schiaccianti di manifesti e di estrinsecazioni delle poetiche schiaccianti allora cosa si è fatto per tanto tempo si sono letti gli scritti manifesti gli scritti degli artisti e si sono cercate quelle cose all'interno delle opere andava benissimo cioè voglio dire certo che li si trovava ci mancherebbe altro le prendi il manifesto dei pittori futuristi manifesto tecnico del 1910 prendi che non so città che sale o i funerali dell'archico Galli ostia se le trovi le trovi le cose sono tutte lì per tanto tempo ci si è detto quei quadri sono brutto lì la trasposizione pittorica di idee che sono nate dalla letteratura dal mondo circostante dal mondo marinettiano eccetera eccetera e anzi più si trovavano le corrispondenze più uno faceva vedere quanto era bravo trovava le cose il problema è stato cioè il problema è stato quando si è cominciato a studiare i quadri per conto loro cioè cercando di vedere che cosa c'era raffigurato e poi che tipo di rapporto con la produzione avanguardista internazionale questi quadri davano c'è stato un libro di Marian Martin una studiosa figurasse viennese perché l'altra cosa divertente è che i primi a studiare seriamente il futurismo non sono stati gli italiani non sono stati gli italiani un po' per un motivo voglio dire Marinetti muore nel 1944 finché c'è stato lui era lui l'interprete del futurismo come facevi voglio dire ad affiancarti ad uno come Marinetti questi padri padroni questi leader di movimenti che si impongono non solo nel momento in cui si crea il movimento ma nel momento anche nella fase in cui il movimento viene storicizzato oggi siamo abituatissimi a trovare critici militanti che 20 30 40 anni dopo storicizzano il movimento giusto hanno loro in qualche modo l'esclusiva il movimento futurista è stato finanziato per decenni da Marinetti ci mancava solo che non era Marinetti a raccontarlo al mondo l'interpretazione che nasce dallo sguardo contemporane è un'interpretazione ovviamente importantissima con una quantità di dati che noi storici ma fortemente viziata dalla volontà di dare un taglio preciso a quelle interpretazioni e questo quando gli americani o nel caso di Marinetti si sono messi a lavorare sulle cose hanno fatto un lavoro meno ideologico più laico nei confronti delle cose questo è un primo motivo il problema del perché cent'anni dopo 90 anni dopo si capiscono quanto sono attuali il manifestazione dai ancora festa patriottica è stato fondamentale per la nascita della performance c'è una performance famosissima di Alan Caprow dei primi anni 60 che si chiama Wart ed è fatta in una galleria di New York in cui la fonte è stata proprio quella perché? perché l'opera è stata mandata in una galleria in una mostra retrospettiva del futurismo fatta in una galleria privata americana la galletta adesso non mi viene in mente di chi ma insomma poi ve lo dico e un artista contemporaneo l'ha visto e ha capito che nella interazione delle sensazioni sensazioni visive sensazioni sonore sensazioni plastiche poteva superare la il campo del quadro poteva diventare qualcosa effetti Alan Caprow ha lavorato con degli altoparlanti con delle radio con dei piani che si sovrapponevano lo spettatore entrava effettivamente dentro un ambiente quando si è riscoperta la pittura delle tecniche tradizionali tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 diciamo la stagione della transavanguardia il ritorno alla composizione semplice di Carlo Carrà è stato fondamentale per gli artisti che hanno voluto rilavorare su questi temi su questi temi visivi l'aspetto che ha per lungo tempo tenuto lontano tenuto lontano l'intelligenza specialmente l'intelligenza italiana di tipo idealistico da un lato poi storicistico marxista dall'altro rispetto al futurismo è questa ideologia fatta di nazionalismo di superomismo che poi transita direttamente nel fascismo non è che queste cose non ci sono il problema è che quando sono state fatte non si sapeva che sarebbe andata a finire in quel modo capite cioè vanno lette nella loro relatività storica è un passaggio complicato quello di Carrà socialista fino al 1912 13 e poi che compra nel novembre del 1914 un quotidiano che si chiama quotidiano socialista dove che è ancora socialista perché ci scrivono diciamo dei socialisti radicali che stanno uscendo dall'area turatiana non lo so insomma io cerco di capirli questi lavori cerco anche di capire il pericolo e gli equivoci e la la scivolosità di certi passaggi di questi di questi lavori l'attualità cioè se è un'attualità visiva ho dato due esempi importanti Alan Caprow ritorna alla pittura se è un'attualità di tipo ideologica certo siamo di fronte ad un convinto militarismo militarismo direi che è la parola giusta e che è perfettamente spiegabile compatibile con la vicenda di una generazione la generazione degli anni 80 che di fatto si è trovata verso i 30 anni a non avere più maestri verso i 25 anni a non avere più maestri e a doversi inventare un superamento del come dire delle strutture positivistiche della cultura della Umbertina I e del primo Vittorio Emanuele II dovendosi inventare queste vie d'uscita di un vitalismo di un nazionalismo e di un militarismo francamente aggressivi non tocca a me dare un giudizio è una una vicenda generazionale non non so se qui l'attualità conta ecco mi sembra che mi sembra che provare a spiegarle nel nel campo di forze ideologiche del loro tempo sia il modo più a me sembra più corretto ecco non so non so se la risposta è quella che voleva sentirsi dire ma insomma c'è un piano che è quello di storia degli studi e ho cercato di spiegarlo un secondo piano che è quello di un'attualità di tipo linguistico e ho provato a vedere se i due casi Capro ritorna alla pittura l'attualità ideologica certo è un po' imbarazzante vedere viva la guerra piuttosto che però non mi come dire non mi stupisce ecco non mi grazie dell'attenzione grazie ancora grazie